Questo è bello tosto, questo qui, pesta, sì, la canzone si chiama Selfie, lo dico per fare una liaison, un trattino di congiunzione, io sono stato bacchettato duramente su Facebook da una mia cara amica che m'ha scoperto a fare un selfie, te l'ho già detto su Facebook, amica mia non era un selfie, io stavo per dare un bacetto da Carletto, ma la foto è stata scattata un microsecondo prima e allora è potuto sembrare fosse un selfie. Gio Marciano, tu sì che ti fai i selfie, tutti i giorni, mentre fai la barba, tutti i giorni fai i selfie, tutti a fare questi selfie, ma chi è questo selfie? Allora, chi salutiamo Giovanni? Buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, a chi? From Trigon Valley, Trigon Valley, yes, they're super Trigon Valley, chi è? Burfaro Emanuele, grande Emanuele, sempre presente sulla pagina di Carletto, grazie, come stai? Tutto bene? Sì, sì, cosa dice? Tantissimi auguri ai miei nipotini Federica, Matteo, Domenico e Giuseppe. Noi ci associamo, grande Emanuele che ha colto al balzo la possibilità messa questa settimana dal Carletto Show con l'intera trasmissione in radio qui su Italiana Radio e sulla pagina pubblica di Carletto di utilizzare il nostro spazio, non per un sondaggio della domenica di Pasqua, ma bensì questa settimana abbiamo preso una giusta vacanza, John, abbiamo voluto dare il nostro spazio a chi volesse salutare magari persone lontane col nostro mezzo mediatico. Sciori e Sciori siamo quasi in finale di trasmissione ma ancora ci rimangono da verificare gli altri film in uscita giovedì 17 in Italia, ci rimane da riascoltare qualche altro bel pezzo che, ripeto, viene scelto ogni settimana rigorosamente dal Comitato Paperi Solitari.